La salvaguardia dell'ambiente, l'aiuto umanitario e lo sviluppo integrale dei popoli sono stati i temi principali del colloquio di Papa Francesco con il Principe Alberto II di Monaco, ricevuto in udienza insieme alla Principescia Charlene. Nel corso dell'incontro, a riferito alla Sala Stampa Vaticana, sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali esistenti e si è fatto riferimento al contributo storico della Chiesa Cattolica alla vita del Principato. Infine sono state prese in esame alcune problematiche che interessano la comunità internazionale, come la pace, la sicurezza, l'accoglienza dei migranti e la situazione generale della regione, del Mediterraneo e del Medio Oriente.